Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi è un video molto speciale ma molto bello che mi piacerà davvero! Come vedete è come dire non lo so come si dice ma... Abbiamo festeggiato già capodanno rumeno e abbiamo fatto auguri ai ziii ai nonni e abbiamo detto La mulți anni, un anno nuovo, plin, cu sanatate si bucurie! Si! Si tutti cei care ne urmăresc si sunt abonati pe canalul nostru, care sunt romani, le dorim un anno nuovo, 2021, cu sanatate si plin de bucurie! Si le trimite mulți pupici! Si vedeam o trebat prin 2000 ventuno in Italia! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Happy New Year! Eccaci in 2021! Spero che vi è piaciuto tanto perchè... Io ci sono stata tanto a fare queste decorazioni per voi perchè siete tanti dei bel angioletti! e non spero l'ora di vederci siete troppo belli quando vi guardo i video su youtube impazzisco che un po' di ragazze ce l'hanno dei canali di youtube vero? anche di instagram anche di instagram lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere i prossimi video ciao auguri grazie